Musica Ciascuno di noi abita una casa e in questa cerimonia accoglieremo anche i nuovi arrivati, nell'unica casa della Sacra Famiglia. Ciascuno di noi coltivi le virtù della propria casa. Ciascuno di noi coltivi le virtù della Sacra Famiglia. Ciascuno di noi coltivi le virtù della Sacra Famiglia. Oggi siamo qui per celebrare la cerimonia, l'iniziazione, l'inizio delle case. Se è vero che abitare all'interno di una casa significa per tutti, per i grandi e per i più piccoli, fare sì che tutte le cose vadano bene, allora anche noi dobbiamo sentirci in una casa. Il regno che tutti ci dobbiamo mettere nella testa, ma soprattutto nel cuore, dai più grandi, dalla scuola secondaria, ai più piccoli, è quello che ognuno di noi deve cercare, per quelle che sono le sue possibilità, di fare qualcosa di bello. Sentiamoci famiglia, è una cosa bella, essere qui con colori diversi, ma tutti insieme, per dire che quel sogno di Santa Paola e Elisabetta di tanti anni fa si sta realizzando qui nella nostra scuola. e noi ci crediamo e vogliamo continuare a crederci. Due parole per sintetizzare l'esperienza delle case. Condivisione e unione. Senso di appartenenza e quindi famiglia. Felicità e condivisione. La terra è il nostro regno, Tasso Rosso è il nostro segno. Quattro case per vivere, quattro case per vivere, quattro studi per vivere, quattro studi per vivere, quattro navi per essere.